Perfetto, siamo arrivati al mondo dei giocattoli, che è chiaramente il mondo di Toy Story. C'era un boss che ci ha impedito di avvicinarci al mondo, però era veramente un merdone, quindi è andato giù molto molto facilmente, non vi siete persi assolutamente nulla, e andiamo, andiamo, quindi saranno altri bellissimi filmati, però appunto sono molto curiosa di vedere il mondo di Toy Story. Toy Story è uno dei film che mi hanno maggiormente segnato. Potevo andare nel Regno di Corona, ma sinceramente darei priorità a Toy Story. Non ho neanche guardato il livello del Regno di Corona. Per quanto di trama me la dava come il prossimo passaggio, quindi forse più basso. Non importa, comunque, se il gioco mi permette di fare una cosa un po' più tosta e solo un bene. Ehm, vabbè. Ok, questa cosa non ve la posso mostrare. Perché CG? No, vabbè. No, vabbè. Ma che cos'è? Che cos'è questa cosa? No, vabbè. Io la metto. Io la metto. No, vabbè. L'omura. Che cos'è? Che imbarazzo, che imbarazzo. Che imbarazzo. Che imbarazzo. Sono dei bambini, sono dei bambini. No, vabbè, no. Vabbè, niente. Niente. Prova a me... Io lo provo a metterlo. Se vedo che YouTube me lo blocca, vedrete un'immagine di un gatto. Verum Rex. No, vabbè. Che cos'è questa cosa? Che cos'è questa cosa? Io non penso che serva commentarla. Non... Era una pubblicità. Nomura. E vabbè. Vabbè, Tabata che fa il capitolo 13 a corridoio e gli fa diventare Noctis un cagone. Nomura che mente. Vabbè, vabbè. Vabbè. Si fanno i dispetti. Che disagio e che belli che sono questi nemici. Che belli sono. Ecco, qua penso che la Real Engine faccia il suo porco lavoro e il mondo dei tuoi stori come estetica plasticosa sia perfetto. Cioè, Udy ha pure la plastica rovinata. È proprio bellissimo. Sì, vabbè, ma che imbarazzo. Che imbarazzo quel trailer. Che imbarazzo! Verum Rex. Verum Rex. Con gli occhi bicromatici. Mamma mia, che disagio. Cos'è? È l'original character di un tredicenne. Non che Noctis sia molto meglio. Con un occhio solo, viola. Mamma mia. Non mi devo distrarre. Non mi devo distrarre. Sono ancora turbatissima. Un, due. Sì, qua la Real Engine fa la sua porca, porca, porca figura. Cioè, sto mondo è fantastico esteticamente. Come, co, come. Au, au, au. Cioè. Nomura! Scontro finito. Gli artless sono stupendi. Bazzero, se l'amico ti colpisce, ti fa volare per aria. Premi cerchi per effettuare un Bazzero e che ti riporterà subito in equilibrio. E l'ho sbloccato adesso, quindi. Perché prima non me lo faceva fare. Perché, distinto, io l'ho sempre premuto il tasto, ma non ti permetteva di farlo. Che zora? Che zora. Che zora? Che zora! Che zora! Quindi pensa che sono i personaggi di quel videogioco. Mi è tornata voglia di guardarmi i tuoi storie. Sì, mi nome è Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Sora! Actually, my name's Sora. And I'm Dino. Well, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. And I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really top. Il fatto che ci sia un boss che si chiama Bahamut non significa niente. Perché comunque Bahamut esiste anche in altri brand rispetto a Final Fantasy. Però. Però. Questi. Questi alieni mi hanno sempre fatto un'ansia incredibile. Che ansia, questi alieni. Welcome. They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, uh, we are... Dada! No. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz. Woody's right. Noted. But still. Hey. Mm-mm. Have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No. They just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized. Right? After all... Quindi i vostri amici sono diventati Heartless? No. Ovviamente. Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Mm-mm. Nobody's heard from Mom, Molly or Andy. Sono tutti morti. Oh. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well... Mm-mm. Mm. There's one thing. One big thing? Huge, sir! What thing? After everyone went M.I.A. The intruders didn't come alone. M.I.A. Vabbè. Oddio, ma io voglio vedere Tissi e l'Organizzazione 13 col cappuccio, tutti legosi, plasticosi. Oh, questa cosa a livello di trama è fichissima. C'è molto, 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 molto più bella di Hercules. Galaxy Toys. 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 Che bello tutto. Iosora. Iosora. Verum Rex. Pietra pulsante. Ah, pulsante nel senso che pulsa, non che un pulsante. Ok. Qui? Eh, lo sapevo che c'era qualcosa. Mamma, che bello qui. Tutto così figo. C'è la fisica ovviamente degli oggetti. Che figata. Ok. Vabbè, mappa della casa di Andy. Ve ne faccio poco, visto che non posso uscire. Vabbè. Andiamo, andiamo. Fuori dalla finestra. Sì, l'ho capito, Pippo. Cioè. Oddio. Io pensavo ci fosse un caricamento, non che fosse il mondo. Ma questa cosa è fichissima. Fantastica. E io ho sia un'unica e base. Li ho tutti e due. Non oggi. Ma che belli che sono. Ok, la prima cosa che abbiamo dovuto fare è andare verso la strada. Galaxy Toys è dall'altra parte della città. Ok, dai. Tutto questo è bellissimo. Sono commossa. E con un'incredibile velocità e talento sono arrivati al negozio di giocattoli. Che è bellissimo. Oltre che è rigorosamente chiuso un pieno giorno. Ma no, ma non è un giocattolo. Ma non è un giocattolo. Perché è microscopico se non è un giocattolo? Scusatemi. Gli Art adesso sono piccoli. Oh no. bravo sora grazie per aver fatto la domanda che ci stiamo chiedendo tutti sono abbastanza sicura che se lo compri non fa questa cosa oh oddio una battaglia meca una battaglia meca allora ella ti muovi R2 spari va bene se la barba deve funzionare 3 bondelli di gigas ma questa cosa appunto mi trovi estremamente confusionario tutto ma va benissimo così cioè questa cosa è fighissima ok dai no 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 plasma no peccato per pochissimo vabbè rampa no ok andato peccato peccato e non e non avevo visto le bombe al plasma me l'ero completamente persa se no ce l'avremmo fatta vabbè comunque comunque molto molto carina questa questa possibilità di combattere così nel no nel mondo dei giocattoli è era stato controllo? non era solo in moda di battaglia con accidente? Buzz? Non è nulla. Mi sono confuso. E' quello che ha fatto con il bianco ha detto che ha fatto una copia del mondo reale? Cosa significa? Probabilmente significa che hanno scoperto questo mondo in due. Voi amici in un mondo, noi in un altro. solo l'uno dei mondi è vero e l'altro è proprio convincente. Non puoi essere serioso. Oh, è vero. Sei da un videogame. Magari nel tuo game è come funziona. Ma qui, in realtà, non puoi diventare mondi. Questo è ridicoloso. Che poi gli viene da pensare. che sia il loro quello falso perché comunque non c'è nessuno. Eh, infatti. è vero? È vero che i emperorsi eviti e proteggendo la galassia? Qualcun di questo ring a bell? Eh, ehm. Ponto. Ma questo significa che questi strani sono parte della delusione. E io dico che è tempo di partire e venire a casa. Io ho sentito delusione non illusione. Comunque, no. Delusione non è illusione. È allucinazione. Sono proprio fighi questi questi dialoghi. Cioè, l'hanno incastrato perfettamente. No, Rex! Vabbè, gli alieni li possiamo perdere, eh. Cioè, non penso che piange nessuno. Vabbè, Buzz? Vabbè, Vabbè, pensi che possiamo salvare i nostri amici? Non ci siamo mai lungo. Abbiamo bisogno di prendere tutto il gioco che possiamo fare. Non preoccuparti. Sora può essere scoperto. E Donald rumblese molto. È vero. Ma tu puoi confiare. È vero. È vero. È vero. È vero. È vero? Doi? È vero. Sono buono. È vero, Buzz? Allora. Allora, prima. Allora, con l'합니다. Allora, ora bisogna avere delle altre cose. Ma che per avere delle cose, Allora, adesso, Noi. Allora, Satorra, Donnell e Sheophi... Non ci sono scoperto. Allora, non ci sono scoperto. Io voglio un giorno in cui diranno Sora Goofy Donald Vabbè Ma che cos'è? Ma che figata Ma che figata Uno può stare tutto il giorno a guardarsi ste cosine E poi mi sembra di ricordare che c'è da qualche parte Le streg di Dissidia Final Fantasy Che non è là Evidentemente quelli sono i GIGAS 25 dollari per una Barbie Dress con le non ci credo proprio così poco Cioè non prendetemi per il culo Chiaramente il mondo fasullo questo A cominciare dal fatto che non conosco dei personaggi Disney Quindi non può essere il mondo reale Quello cos'è Monster Hunter? Monstrous Monster E' chiaramente Monster Hunter Giulia Non è Barbie Giulia Vabbè Signori ma di che stiamo parlando? Ok Altro filmato che non mi aspettavo Soil Smasher Oh no No non è Rex quello Oddio è il mostro di Monstrous Monster Oh no Oh no Guarda è figo E' bellissimo Poverino Poverino E' bello che è Non è fatto per essere Per essere per muoversi Poverino Oddio Oddio E' la cosa più bella del mondo Io sono commossa Questa cosa è meravigliosa Paperino Cos'è No i controlli Io sono abitato a controlli invertiti Non ce la faccio Controllino invertiti Fa piacere che il paperino è sempre Molto molto bravo Riesci a curare sempre al momento giusto Quando è che io sblocco energia Devo controllare se ho energia a questo punto Perché non ci credo e non ce l'ho ancora Dai Oddio Non artilassi Oh no What did I do Oh! 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 Che c'è un belice! Nella stazione di Nenonati e Bebe, che ci fa là? Radio contact Radio contact Io Zora Povero Rex Quelli sono chiaramente Digimon invece Questi sono Digimon Io sono commossa dalla bellezza di questo mondo E' proprio fico Bene Che dire Io proseguirò Nell'altro video Sono felicissima Che fico sono Sono felicissima di questo mondo Purtroppo io col mondo di Corona non ho particolare Mi pare Ma anche so che cos'è Cos'è Rapunzel dovrebbe essere Non ho particolari legami Toy Story e Toy Story Poi è ovvio che l'hanno messo Si vabbè Nomura voleva Toy Story Si E' anche vero che deve uscire l'ultimo film di Toy Story Quindi l'hanno messo per questo motivo Toy Story Perché Nomura voleva Toy Story Perché Nomura ha sempre voluto Toy Story Semplicemente l'hanno messo adesso per fare la marchetta per il film Però ci sta perché è fichissimo Quindi le marchette sono sacrosante Se sono fatte bene Comunque appunto io Continuerò nel prossimo episodio Adesso faccio un giretto velocissimo qui Ma non vado avanti appunto Nel condotto ci entriamo assieme E magari da piccola avesse potuto Tenere questi giocattoli così fichi Poi vabbè c'è questo trailer Io ringrazio Michele Non il mio ragazzo Un altro Michele Lui sa Ringrazio Michele Per avermi detto Mi aveva detto Tu guarda l'inizio di Di Toy Story Del mondo di Toy Story Perché ci sarà una cosa Che ti farà impazzire Però mi aveva detto cosa Sì vabbè C'è da ridere e da piangere contemporaneamente Quindi grazie Michele Per il suggerimento Mi ha detto registra Ti metti la facecam L'avrei comunque avuta La facecam Però vabbè Io zona eh Comunque Va bene Allora Io vi ringrazio per l'attenzione E noi ci sentiamo Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Che i campi di nome e commento Fossero compilati Così da ricevere un feedback Da parte di tutti quelli Che supportano il mio lavoro Ci tengo a precisare Che qualsiasi supporto Anche solo verbale È sempre benvenuto E apprezzato E non vi rende followers Di serie A o B Ci ho detto Grazie ancora per l'attenzione E al prossimo video Grazie a tutti per l'attenzione Ciao Ciao Grazie.